Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsiccia e patate a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono salsicce, patate, olio evo, dado vegetale bimbi, carote, sedano, cipolla, rosmarino, acqua, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote, il sedano e la cipolla ed il rosmarino ed acceniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungere il dado, l'acqua, chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il Varoma, salare le patate, pepare, chiudere con il coperchio e cuocere per 40 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. Le patate e la salsiccia sono cotte, trasferiamole in un piatto da portata. Irrorare con la salsa e servire. Salsicce e patate a Varoma. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.